Tony Benetton, il maestro che ha restituito il ferro alla scultura, è uno dei più grandi artisti contemporanei. La tecnica è millenaria e insieme sofisticata. Il fuoco porta il ferro al calor bianco. Mani degne di un dio vulcano piegano la materia alle esigenze della forma. Benetton dirige la possente forza del maglio con la precisa cadenza di un direttore d'orchestra. Nel suo atelier, progettato come un'officina, nascono forme gigantesche, nuovi totem, forti segnali destinati a connotare uno spazio urbano o un paesaggio. E l'austera monumentalità di queste opere ci rende partecipi del disegno di un uomo che, lontano dalla facile decoratività dell'artigiano, ha saputo affrontare dimensioni e spazi fino a ieri inesplorati. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!